Io sono... Lo so chi sei, io no. I'm Rebecca. Potrebbe essere abbastanza spento. L'ho detto, sali! Chiamami Sonia. Professor Carmin... Professor Carminati? Perché continui a girarmi attorno se non te ne frega niente di me? Ecco, su, andate in danzale, dai, bravi. Ho detto di tornare dentro. Yoko Drush Power you have never even dreamed of. What happened? Transition. Ah, mi cani, porco, arrivi a questa cosa qua. No, porca! Sei io erina. Se me lo dici così, ci credo davvero. Ciao!